No alla cementificazione della piazza, no al parcheggio che cancellerebbe uno spazio verde, luogo di incontro quotidiano per tante persone. I residenti di Piazza Lario a Salerno si mobilitano e lo fanno provando a sensibilizzare i salernitani, tutti coloro che hanno a cuore quella piazza sospesa sul porto di Salerno lungo la strada che dal Teatro Verdi conduce a Vietri sul mare. Gli abitanti del quartiere temono che il progetto di realizzazione dei parcheggi possa deturpare l'aria, modificarne il suo aspetto mettendo anche a rischio la stabilità di alcuni storici edifici. Il comitato Salviamo Piazza Lario prosegue così la sua opera e lo ha fatto con una vera e propria festa di quartiere con canti e balli utili per attirare l'attenzione anche dei passanti e spiegare loro l'obiettivo del comitato. Nel frattempo si chiede un intervento dell'amministrazione cittadina per il restyling dei giardini che pur versando in uno stato il degrado rappresentano un luogo d'incontro e di relax per tanti. Salvarlo dalle ruspe, salvarlo dalle trivellazioni, salvarlo perché non vogliamo che vengano abbattuti questi alberi secolari ai quali siamo legati. Questa zona è ancora una zona a misura di bambino, a misura di anziano. Stravolgerla solo per ricavare 300 posti auto se tutto va bene ci sembra davvero una cosa turpe e prima di tutto inutile. Il rischio di mettere in forza l'incomunità dei cittadini e degli appartamenti è un rischio che siamo sicuri di correre perché avverranno sicuramente delle trivellazioni molto significative. Per di più sappiamo che proprio lì c'è un corso d'acqua che parte da sopra, da dove è da croce, è stato incanalato e sfoga a mare. Sono cose che dal punto di vista tecnico so benissimo che possono essere risolte, però sono molto rischiose. C'è questo palazzo tra l'altro, il famoso palazzo Rizzo, che è sotto osservazione per la sua staticità, per la sua stabilità.